Musica Abbiamo cercato di dare il messaggio che se queste nazioni ci aiutano a combattere la rete dei trafficanti con la sua scia di morte, con i suoi interessi miliardari fatti sulla pelle della povera gente noi diamo dei segnali in termini di non solo flussi regolari ma in termini anche di formazione l'Europa è rimasta indietro E come si recupera questo? Si recupera decidendo e capendo e questo è qualcosa su cui l'Italia cerca di spingere che l'Africa per noi è assolutamente strategica, non solo perché noi siamo i dirimpettai Io mi do come obiettivo l'eliminazione della protezione speciale perché la protezione speciale è una protezione ulteriore rispetto a quello che accade nel resto d'Europa e io credo che l'Italia non abbia ragione di discostarsi dalle normative europee di riferimento E' emersa anche la questione del passato coloniale? Guardi, francamente non è emersa, forse qui non c'è Repubblica Insomma è un tema che loro non hanno minimamente considerato No, certo, ma è un tema che non hanno considerato probabilmente non vedono il nesso che vedete voi Siamo preoccupati, molto preoccupati dal fatto che per distogliere l'attenzione dalle risposte che mancano sull'economia sul sociale, sulla sanità ogni giorno questo governo se ne inventi una e di certo non si risolve con i muri perché i muri nella storia del nostro paese ed Europa hanno soltanto aumentato i divari Voglio dire che è una vergogna che vogliono cancellare la protezione speciale ci avevano già provato e si era spessa anche la torta costituzionale dentro di leggete di sicurezza di Sardini vogliono portarci là Buongiorno, buongiorno cari telespettatori Buon lunedì, allora torna in primissimo piano nel caso mai fosse diventata laterale la questione dei migranti il governo dopo aver dichiarato lo stato di emergenza per sei mesi su tutta l'Italia, su tutto il territorio nazionale ha nominato il commissario delegato ma quattro regioni a guida centro-sinistra l'Emilia Romagna, la Toscana, la Campania e la Puglia non hanno firmato questa intesa ed è scontro anche sull'abolizione appunto avete sentito della protezione speciale lo prevede un emondamento del governo si sta discutendo la questione nella commissione affari costituzionali del Senato e domani o dopo domani il provvedimento cioè il decreto cutro dovrebbe approdare nell'aula e lì ci sarà un nuovo scontro con le opposizioni ma i braccio di ferro anche con i sindaci sei sindaci delle sei maggiori città italiane che cosa hanno fatto questi sindaci hanno firmato una sorta di lettera appello dicendo il governo ci ripensi bisogna essere molto attenti perché così si rischia di sbantellare diciamo tutto il sistema dell'accoglienza dobbiamo pensare molto più all'integrazione e magari inserire anche e introdurre lo IUS scole questo dicono questi sindaci di queste sei grandi città cominciamo da qui poi parleremo anche di lavoro perché ci sono novità in arrivo riguardo all'abolizione annunciata dal governo del reddito di cittadinanza e parleremo anche delle nomine ai vertici delle società partecipate questione questa che si intreccia molto da vicino con il PNRR bentornata da Annalisa Chirico buongiorno saluto Carmine Fotia buongiorno collegati con noi ci sono Brunella Bolloni di Libero che saluto buongiorno buongiorno e saluto il direttore di Asca News Gianni Todini benvenuto buongiorno allora Annalisa vorrei cominciare con te che succede? perché insomma qui si mettono di traverso le regioni e molti sindaci importanti credo che il governo avesse ben chiaro che non sarebbe stato facile e che anche l'opposizione avrebbe fatto l'opposizione il segretario Elislein che era stato abbastanza silente nei giorni dopo la Pasqua si era presa appunto una pausa anche dopo il DEF dopo le nomine delle partecipate è intervenuta si è fatta risentire per la prima volta proprio su questo tema quello dell'immigrazione perché è un tema caldo è un tema che divide gli schieramenti io credo che servirebbe un po' di buonsenso perché è chiaro che se gli sbarchi nei primi tre mesi di quest'anno sono triplicati cioè più 300% 31.000 persone dall'inizio dell'anno questo dicono i numeri direi che è difficile non concordare con quanto ha rilevato il Ministero dell'Interno quando ha detto non siamo in una situazione di allarme ma tecnicamente è un'emergenza anche in questo weekend sono proseguiti gli sbarchi con numeri incessanti numeri altissimi che mettono in difficoltà il nostro sistema di accoglienza perché è chiaro che Lampedusa che avrebbe una capienza regolamentare di 400 unità ormai è regolarmente sopra le 1.200-1.300 persone dovremmo chiederci in quali condizioni vengono tenute queste persone proprio a causa della ristrettezza delle risorse e degli spazi intanto si applicano già le norme che questo governo aveva cambiato per cui per esempio le navi non vanno tutte le navi dell'ONG che effettuano i soccorsi non vanno tutte soltanto in Sicilia ma ieri una è stata mandata in Toscana insomma vengono distribuiti proprio per evitare la pressione il governo ha anche previsto l'apertura di nuovi centri di permanenza e rimpatrio però anche su questo Andrea per esempio la Toscana un'altra regione di sinistra si è ribellata perché poi tutti vogliamo i migranti ma non li vogliamo vicino a casa nostra quindi anche rispetto alla proposta di aprire nuovi centri di permanenza proprio perché c'è una carenza delle nostre strutture una regione di sinistra come la Toscana ha detto no noi qui siamo già pieni non vogliamo altri centri di permanenza e rimpatrio il tema è un tema politicamente caldissimo è chiaro che l'Italia da sola non ce la può fare anche qui l'abbiamo detto tante volte l'Italia sta tentando questa interlocuzione forte con l'Europa la Presidente del Consiglio è stata in Etiopia dove ha fatto un vertice con il Presidente Etiope e anche col Premier Somalo la speranza è che davvero da una parte gli aiuti dell'Europa e la condivisione dell'onere dell'accoglienza e dall'altra una politica nuova verso l'Africa possano aiutare il piano Mattei come l'ha chiamato il governo possano aiutare a uscire da questo circolo vizioso perché chiaro che bisogna bloccare le partenze non c'è altro modo cioè non vedo nessun'altra strategia non possiamo pensare che arrivi massicci da un continente che ha un miliardo e quattrocento milioni di persone possano essere gestiti dall'Italietta nel mezzo del Mediterraneo Allora vado a Gianni Todini per chiedere a lui che riflessione fa su questo nuovo scontro che si preannuncia diciamo nei prossimi giorni in Senato ma che vede contrapposte anche appunto regioni e comuni guidati dal centro-sinistra contrapposti al governo Beh sappiamo possiamo dire che ci saremmo arrivati ci saremmo arrivati perché l'impostazione di programma del centro-destra dava indicazioni chiare in questa direzione il numero degli sbarchi l'abbiamo commentato prima non ha fatto altro che accelerare quello che poteva essere un processo naturale di programma almeno per quanto abbiamo potuto registrare sin dalle prime battute di avvio della legislatura è normale che l'opposizione che si sta diciamo dal punto di vista del PD ricompattando verso uno schema che possa essere di proposizione di una linea politica che sappia dare risposte a un popolo di elettori che comunque aveva smarrito un po' il senso diciamo di alcuni percorsi di alcune strade di alcune diciamo rivendicazioni politiche che in questo momento faccia l'opposizione fare l'opposizione è giusto farlo in maniera forte in presenza di un governo che è altrettanto diciamo ben dotato dal punto di vista dei numeri quindi era un percorso che insomma prima o poi ci saremmo dovuti arrivare a questo scontro diciamo parlamentare e fuori dal Parlamento perché ovviamente tutto questo comporta l'implica un coinvolgimento diretto dei territori e i territori allo stesso tempo rispondono non solo alle proprie esigenze perché abbiamo visto che poi ci sono anche differenziazioni rispetto a quello che uno vorrebbe poi quando gli si dà lo spazio poi quello che uno poi non vuole più rispetto anche all'ospitalità dei migranti e allo stesso tempo insomma è chiaro e evidente che insomma non possiamo certamente non considerare quello che sta accadendo nel nostro paese in uno stato d'emergenza adesso la gestione dell'immigrazione considerata non legale non è certo facile non è questo il governo che ha fatto esplodere insomma questa tipologia diciamo di gestione di un'immigrazione difficile pensiamo i centri d'accoglienza pensiamo alla situazione di Lampedusa insomma è una situazione difficile l'Europa può far tanto dal punto di vista di quelli che sono i rapporti con gli altri paesi sulle migrazioni illegali l'ha fatto in passato l'ha fatto spesso con ritardo però insomma in quella direzione si è mossa qui siamo nei fronti a fenomeni epocali provocati da tante ragioni guerre crisi climatica migrazioni economiche insomma è una situazione esplosiva che va gestita nella maniera migliore ovviamente nel lagone politico poi c'è lo scontro allora vado in pubblicità poi ripartiamo sia con Camille Fotia che con Brunella Bolloli e c'è anche un'altra domanda perché prima Annalisa Chirico diceva questo è il tema classicamente divisivo tra maggioranza e opposizione ma ma forse ci sono dei distinguo adesso li affrontiamo anche all'interno della maggioranza tra poco a proposito di arrivi di migranti stamattina è giunta nel porto di Catania la nave della guardia costiera Peluso con a bordo 201 dei circa 600 migranti soccorsi ieri sempre dalla guardia costiera in acque Sar Maltesi altri 300 migranti soccorsi sono arrivati la scorsa notte su nave Libeccio della Marina Militare ad Augusta nel Siracusano questo tanto per capire insomma qual è il flusso di arrivi anche in queste ore vado da Carmine Fotia allora la prima domanda che ti faccio è intanto il governo dichiara lo stato di emergenza nazionale e quattro regioni si dissociano ma com'è possibile? per fortuna in Italia esiste ancora una cosa che si chiama Costituzione che garantisce alle regioni una vasta e larga autonomia è quella che rivendica la Lega no? vogliono l'autonomia ancora più differenziata differenziata queste regioni l'hanno esercitata questo lo dico a prescindere dal merito poi c'è una questione di merito lo stesso governo vuole dire molto pacatamente sommessamente il governo quando la CEI ha contestato l'idea che si potesse interpretare col criterio dell'emergenza un fenomeno come quello migratorio che è un fenomeno tutt'altro che emergenziale un fenomeno strutturale che va avanti da anni e andrà avanti per i prossimi anni il ministro Piantedosi ha risposto ma non è una vera emergenza a noi ci serve tecnicamente per poter fare delle cose quindi questo già vuol dire che il governo è un discorso che vuol dire che il governo non crede che ci sia un allarme un'emergenza quindi cominciamo a dire questo lo stesso governo poi sceglie questa strada più o meno discutibile ma la cosa grave è l'abolizione della protezione speciale la protezione speciale differentemente da quello che dice la Presidente Meloni esiste in quasi tutti i paesi dell'Unione Europea in forme diverse e non è un regalo la protezione speciale è una forma di protezione che si dà a chi non è riuscito ad ottenere la protezione internazionale si è integrato si è integrato a dei riferimenti in Italia o a problemi di salute o rischia la vita se torna dal suo paese questa è la protezione speciale di cui in Italia si avvalgono alcune migliaia di persone non sono tantissime 10-15 mila una cosa del genere quindi non mi sembra mi sembra un atto simbolico orribile che di prete è inumano come fu inumano il decreto Conte Salvini non ci dimentichiamo Conte Salvini i decreti sicurezza i decreti sicurezza che furono i primi a abolire la protezione speciale ne hanno fatti i governi il primo governo Conte con Salvini il ministro dell'interno in quell'occasione varati quei decreti siccome a me piace parlare di cose che vedo sono andato in Sicilia a Palermo e in altre zone della Sicilia a vedere come stavano le cose le cose stavano che decine e decine di ragazzi che avevano cominciato un percorso di integrazione andavano a scuola facevano dei corsi di punto in bianco ci sono trovati i clandestini mi domando se aumentare la clandestinità sia un modo corretto di governare i temi dell'immigrazione vado da Brunella Bolloli per chiedere anche a lei una prima riflessione su questo nuovo braccio di ferro che già è in atto ricordando anche che i sindaci a cui facevamo riferimento prima tanto per capirci sono i sindaci di Milano di Napoli di Roma di Torino di Bologna e di Firenze tutti e sei a memoria dicono anche un'altra cosa cioè chiedono anche che si regolarizzino gli immigrati già presenti in Italia peraltro sì beh questo sicuramente è un altro tema poi ecco se vogliamo vederva dal punto di vista politico è evidente che insomma chi ha scritto questa lettera e anche i governatori che si oppongono alla nomina di questo commissario e a come viene gestita questa emergenza questo decreto emergenza migranti sono appunto come avete detto poi i governatori di centro-sinistra cioè i quattro governatori rimasti del centro-sinistra sono le regioni del PD quindi è evidente che c'è un discorso politico e che il tema è fortemente politico così come in Parlamento c'è il dibattito che che appunto infiamma poi i lavori parlamentari oggi in Senato torna in Commissione Affari Costituzionali il decreto dove ci sono il cosiddetto decreto cutro che poi è stato chiamato così dopo il terribile naufraggio dove sono morte più di 90 persone e lì c'è tutto un discorso relativo ai tantissimi emendamenti che soprattutto la Lega ma anche altri partiti di maggioranza hanno messo e c'è il tema appunto della protezione speciale che poi è questo emendamento afferma Gasparri ma un po' di tutto il centrodestra comunque per quanto riguarda la questione migranti è anche interessante un'intervista che c'è oggi sul Corriere della Sera di Manfred Weber che è il presidente del Parlamento europeo il presidente del PPE scusate dei popolari europei che dice comunque una cosa che bene o male la Meloni dice da molto tempo e cioè che l'Italia è stata lasciata un po' sola a gestire questo problema e non sono soltanto parole perché effettivamente qualche cosa è stato fatto ma non basta e ci sono bisogna ricordare che comunque i confini del nostro del nostro paese i confini del Mediterraneo sono in realtà i confini europei e che questo questa emergenza che appunto ha raggiunto quota 31 mila sbacchi dall'inizio dell'anno non può essere gestita da soli altri paesi stanno organizzandosi con una sorta di protezione delle frontiere cioè penso ad esempio alla Grecia o penso ad altre realtà che è una cosa ovviamente sempre poco piacevole parlare di muri di recinzioni noi non stiamo facendo questo anche perché non potremmo farlo obiettivamente essendoci di mezzo al mare ma si sta cercando con una sorta di coinvolgimento dei paesi di provenienza cioè appunto la Tunisia più di altri ma anche anche l'Egitto anche l'Etiopia insomma si sta cercando di di spostare il problema là quello che appunto la Meloni chiama il famoso piano Mattei che poi vedrà la luce a ottobre ma insomma fondamentalmente è una sorta di coinvolgimento dei paesi di provenienza per evitare che queste persone partano quindi la formazione anche per tornare alla tua domanda principale cioè servono lavoratori sì è vero servono formati e serve regolarizzare quelli che ci sono quindi anche con un superamento delle norme quindi la protezione speciale va mantenuta perché serve esattamente a questo però la protezione speciale però attenzione la protezione speciale innanzitutto è un terzo livello di protezione c'è la richiesta di asilo che non si tocca c'è la protezione sussidiaria la protezione speciale è un di più è una cosa di più che molto spesso viene assegnata però con una discrezionalità ad esempio dei magistrati che dicono questa persona è discriminata nel suo paese quindi bisogna dare la protezione speciale ciò è stata un po' diciamo diciamo che è un molto discrezionalità cioè nel senso nessuno discute che debba essere data la richiesta che debba essere dato l'asilo a chi fugge dalle guerre a chi fugge dalle carestie ma tra usare criteri migliori e abolire c'è una differenza no ti pare? cioè se come dici tu si possono usare i criteri più selettivi abolire significa mettere del punto in bianco delle persone che fino a ieri erano regolari diventano irregolari questo è il punto però bisogna non mi rispondi mi pare no no bisogna certo ma bisogna capire innanzitutto chi ha diritto alla protezione all'asilo ma per questo ci sono le decisioni che prendono i magistrati giusto? esatto ma molto spesso le decisioni dei magistrati molto spesso le decisioni dei magistrati sono state potreste magari anche orientate per una certa dose di politica posso chiedervi una cosa lo chiedo all'analisa chimico perché sullo sfondo di tutto questo adesso è anche giusto approfondire le varie tipologie diciamo di protezione c'è però una competizione di nuovo tra Fratelli d'Italia e la Lega tra la Meloni e Salvini perché negli emendamenti della Lega c'è la richiesta di ulteriori inasprimenti rispetto al fenomeno dei migranti insomma ravvisi anche questo elemento perché fino all'altro giorno sembrava noi tutti i giorni andiamo in onda e diciamo abbiamo un po' il polso e monitoriamo la situazione la Lega si era già messa di traverso su questi emendamenti ma sembrava sembrava magari io sbaglio che la linea di Fratelli d'Italia e forse anche di Forza Italia fosse un po' differente poi l'altro giorno dall'Etiopia abbiamo sentito Giorgia Meloni dice no assolutamente siamo tutti d'accordo con l'abolizione della produzione speciale che sta succedendo? No devo dire che nel quadro complessivo della gravità della pressione migratoria sul nostro paese penso che le diverse sfumature interne alla maggioranza siano l'aspetto meno interessante io credo che ci sia davvero una vasta sottovalutazione a partire dall'opinione pubblica della gravità del fenomeno già in atto che potrebbe durare nei prossimi mesi e anni se l'Italia e l'Europa non decideranno di gestire quello che accade in Africa e Nord Africa certamente ci sono sfumature diverse l'immigrazione è un tema bandiera per la Lega il cui leader si è intestato i famosi e vituperati i decreti Salvini che avevano portato come nella fase di Marco Miniti con altri strumenti quei decreti portarono a un calo forte dell'immigrazione nel nostro paese perché? perché l'immigrazione è fatta anche dei messaggi che un governo manda e se il messaggio che si manda è che si può entrare in Italia in maniera irregolare perché tanto poi arriva la sanatoria e la regolarizzazione che magari si chiama protezione speciale è chiaro che questo non risolve il problema anzi è un fattore di attrazione vorrei finire perché l'abbiamo scartato l'idea che va totalmente invertita è che in Italia come in America come nel Regno Unito non si entra siccome siamo per tre quarti bagnati dal mare allora si entra come si vuole io quando vado in America o quando vado nel Regno Unito che non è più parte dell'Unione Europea devo presentare all'ingresso dei documenti e devo rispondere a dei requisiti che quel paese di ingresso mi richiede se non li ho sono un irregolare e vengo respinta il fatto che in Italia ormai sia valsa l'idea che si entra perché tanto si entra poi ti danno un permesso così è il tempo di lasciare l'Italia e di andare verso il centro e il nord Europa questa è un'idea che non soltanto confligge con il principio di legalità che credo dovrebbe essere interesse di tutti destra, sinistra, centro sopra, sotto vedere rafforzato e applicato ma anche poi ha una serie di conseguenze sul piano sociale della pressione al welfare della legalità perché poi molte di queste persone non avendo un sistema nel quale potersi integrare anzitutto lavorativamente purtroppo diventano lo dicono i numeri diventano mano d'opera della criminalità organizzata in Italia che non ci si ponga questo tema la protezione speciale per come è stata applicata in Italia non ha funzionato perché se uno strumento che doveva essere uno di quei fenomeni attrattivi dici tu ma dove sta scritto Andrea non lo dico io lo dicono i numeri che le spiego subito se la protezione speciale come ricordava Bolloli doveva essere uno strumento di terza istanza per chi non avesse lo status di rifugiato e per chi non avesse diritto alla protezione sussidiaria i numeri ci dicono che oggi è la protezione che ha il maggior numero di richieste di ottenimento richiesta oltre 10.000 persone vuol dire che non è più uno strumento residuale no scusate vuol dire che non è più uno strumento residuale è diventato uno strumento di via preferenziale prioritaria lo decino dei magistrati io credo che gli ingressi in Italia non li debba decidere la magistratura italiana la politica migratoria la fa il governo non la fanno né le commissioni né i magistrati la fa il governo e il governo decide di togliere uno strumento che ha dimostrato nell'applicazione in uso distorsivo in Italia chi ha lo status di rifugiato entra chi ha lo status di rifugiato entra e chi ha diritto alla protezione sussediaria entra ma perché creare un terzo strumento che chiaramente è diventato la sanatoria europei no no possiamo far così esistono forme di protezione complementare lei ha letto l'articolo della stampa che oggi tutti i colleghi ti ripeteranno perché poi in Italia funziona così tutti ripetono l'articolo della mattina in tutti i paesi esistono forme di protezione complementare ma qui noi infatti ce l'abbiamo c'era già la sussidiaria perché creare un terzo strumento che nei numeri è diventato il prioritario i paesi europei vabbè vedo che non ha ok se è uno strumento che doveva essere usato in via residuale è quello che è utilizzato di più c'è una distorsione per cui sono sicura che chi ha utilizzato di più ma mi scusi ma lei sogna che tutti ma perché lo stato di rifugiato e la protezione sussidiaria esistono la confindustria in Italia chiede nuovi ingressi ok perché non sono sufficienti il problema è nuovamente mi pare no cioè perché sempre lì andiamo a finire no no ma io ti seguo adesso torno subito la te cioè che poi il tentativo di questo governo come di altri governi è quello diciamo sulla scena di quanto c'era l'analisi chitico cioè c'è quella cosiddetta tipologia che abbiamo ribattezzato di migranti economici sono quelli no a cui si cerca di impedire no di impedire l'ingresso sono quelli se non per vie legali e il governo che non ci sono c'era un primo decreto flussi adesso si allargerà il decreto flussi ma sono insufficienti mentre l'ufficio parlamentare lo stesso documento di economia e finanza si dice che nel futuro se vogliamo risolvere i problemi servono più migranti quindi il primo problema è che bisogna allargare gli ingressi regolari poi c'è un problema politico che viene sottovalutato che non è stato citato ancora e il fatto che sulla prima versione del decreto c'era ci fu una delle osservazioni del Quirinale che hanno portato la Meloni a torre quelle modifiche che adesso Salvini vuole eliminare ora la Meloni è stata fin questo momento perché è una donna molto intelligente è una leader capace a tenere rapporti buoni con il Quirinale perché le servono in Europa e le servono per avere una maggiore credibilità del suo governo deve stare molto attenta perché il Quirinale ha una mitezza che si manifesta nel fatto che non interviene mai nel dibattito politico non forza ma anche una determinatezza quando agisce successivamente quando tu dici deve stare attenta si l'hai spiegato bene rispetto al Colle e rispetto a Salvini che tipo di rapporto vedi è evidente che siccome Salvini ha interesse a come dire a indebolire la leadership della Meloni è chiaro che su questo terreno è dall'inizio che su questo terreno come si dice fa la faccia feroce e costringe la Meloni a inseguirla su un terreno estremista che si avvicina alle posizioni dei paesi dell'est europeo che sono quelli che non vogliono redistribuire i migranti quindi come si fa ad andare in Europa a chiedere aiuto quando poi si è alleati con i paesi che non vogliono la distribuzione dei migranti i migranti vanno accolti e redistribuiti creando flussi regolari di cui abbiamo bisogno in America negli Stati Uniti dice l'economista Paul Krugman il recente sviluppo che c'è stato nel post pandemia è dovuto in misura consistente al contributo degli immigrati quando la smetteremo di considerarli un problema e governeremo questa questione faremo un passo a base i limiti sul decreto però li ha fissati la Corte Costituzionale e io non ho elementi per dire che questo governo stia preparando delle norme in conflitto con i paletti fissati dalla Corte Costituzionale è un processo alle intenzioni scusate è un'accusa grave che si fa senza un minimo di elemento io sono sicura che il governo deciderà e fisserà delle norme nel rispetto dei limiti fissati dalla Corte Costituzionale lo do per scontato posso devo tornare già la prima volta che succede intanto c'è l'allarme che arriva poco fa dal presidente della regione siciliana Renato Schifani l'emergenza esiste la viviamo in Sicilia già da un mese da quando siamo stati sommersi da sbarchi migliaia di persone hanno invaso lo spot di Lampedusa che può accogliere solo alcune centinaia di migranti la regione ha fatto la sua parte ha dato una mano abbiamo fatto in modo di far arrivare coperte, scarpe, viveri in collaborazione con il ministero dell'interno ha detto poco fa Schifani il sistema dell'accoglienza è stato distrutto già dal primo governo con il tesantino voglio però darvi conto anche di un'altra cosa adesso ci arrivo e cioè quali sono rispetto alla dichiarazione dello stato di emergenza di cosa si deve occupare il commissario l'ho nominato ieri allora io qui ho una paginetta sintetica dove si dice che il nuovo commissario deve coordinare le attività mirate all'ampliamento della capacità del sistema di accoglienza con particolare riferimento agli hotspot e ai centri previsti appunto dal sistema di accoglienza e integrazione coinvolgendo ovviamente i territori interessati deve coordinare l'attività per l'accoglienza dei migranti in strutture provvisorie nelle quali siano assicurati vitto, alloggio, vestiario, assistenza sanitaria e la mediazione linguistico-culturale ma il commissario è anche chiamato ad individuare le migliori soluzioni per assicurare un servizio continuativo di trasporto marittimo-aereo da parte di vettori che sono stati appositamente individuati dagli hotspot quindi ai territori dove saranno individuati i centri o le strutture il commissario per realizzare questi obiettivi può agire anche in deroga ad una serie di norme viene previsto in questo documento dicevamo appunto per facilitare e accelerare queste procedure volevo chiedere una cosa a Gianni Todini ma questa questione dei migranti emergenza non emergenza tutta questa feroce polemica che non è assolutamente una novità quanto in questa fase dal tuo punto di vista appassiona interessa coinvolge gli italiani allora il tema migranti non appassiona ma sicuramente preoccupa è sempre stato un elemento divisivo ma allo stesso tempo di grande preoccupazione perché è stato ricordato prima l'italiano sa che questa è una crisi strutturale sa che l'Italia è uno dei punti di accesso nel Mediterraneo più importanti sa che l'Europa perché l'ha vissuto sulla propria pelle spesso arriva troppo tardi anche quando ripeto quello che ho detto prima anche quando prova a far bene e quindi è una preoccupazione diffusa ci sono territori abbiamo sentito adesso la Sicilia che vivono tutti i giorni questo tipo di problematica e quindi non è tanto un tema di appassionarsi è un tema di essere preoccupati e la preoccupazione c'è no lo dico scusa se ti interrompo lo dico perché in tutti i sondaggi che tutti abbiamo visto recenti il tema migranti non è nei primissimi posti delle preoccupazioni degli italiani lo dico per questo invece secondo me lì c'è una una risposta forse nascosta io credo che invece ci sia credo che la preoccupazione ci sia c'è una preoccupazione perché comunque è un fenomeno di difficilissima gestione abbiamo visto anche le opinioni che sono state espresse rispecchiano una incapacità di mettere anche nero su bianco se vogliamo vedendolo da fuori quelle che possono essere le risposte più efficaci che ci sia bisogno di lavoratori ci sia bisogno di flussi legali e questo è un dato di fatto e che ce ne sia bisogno in crescita nei prossimi anni così come anche il DEF ci ha indicato è un elemento importante per il sistema previdenziale per la tenuta stessa dei conti del paese questo noi lo sappiamo sappiamo anche però che quello che sta accadendo intorno all'Europa intorno all'Europa abbiamo visto la crisi ucraina cosa ha generato in termini di movimenti di flussi ma noi sappiamo che tutto quello che per esempio successe in Siria determinò ondate di profughi che di fatto cannibalizzarono interamente l'area balcanica e ci portarono ad un accordo con la Turchia che ben conosciamo e sappiamo cosa significa fare accordi con i paesi chiedendo di gestire loro per conto nostro fenomeni di questo tipo quindi è chiaro che la preoccupazione c'è io credo che ci siano gli italiani queste preoccupazioni non è un tema di immediato diciamo effetto nel senso il tema economico è quello che prevale di più questo è un paese che si sta spaccando da un punto di vista di coesione sociale è un paese in cui l'economia gira e pochi lo dicono perché sono tre anni che gli indici dicono che l'economia di questo paese funziona bene e purtroppo però la ricaduta della ricchezza non è così diciamo capillare come un sistema diciamo che funziona dovrebbe garantire e questo preoccupa tantissimo e quindi diciamo che però l'effetto migrante è un effetto che ancora colpisce non a caso è un elemento importante è stato di campagna elettorale e oggi è un elemento di programma altronde ha vinto questa coalizione e presenta i propri programmi in bandiera poi dopo ne possiamo discutere fin quando ne vogliamo ma questa è la realtà allora andiamo in pubblicità è tardissimo introduciamo anche il tema che riguarda reddito di cittadinanza e diciamo nuove regole per il mercato del lavoro dopo la pubblicità allora prima di affrontare il tema reddito di cittadinanza e nuove regole per il lavoro andiamo al San Raffaele a Milano dove c'è Carmelo Schirina oggi è atteso credo un nuovo bollettino no Carmelo per quanto riguarda le condizioni di Silvio Berlusconi sì buongiorno Andrea oggi è atteso un nuovo bollettino il più atteso di tutti perché da ieri Silvio Berlusconi ha lasciato la terapia intensiva e si trova invece adesso al primo piano del padiglione Q nel reparto di degenza ordinaria nel reparto Solventi ce l'ha confermato ieri pomeriggio anche il fratello Paolo mentre veniva a trovarlo era sorridente ci ha detto che Berlusconi sta molto meglio e poi scherzando con i giornalisti ha detto spero che il vostro lavoro da domani sia finito aspettiamo la conferma ufficiale medica appunto da questo bollettino che dovrebbe essere diramato a momenti quanto si apprende Berlusconi avrebbe diciamo quasi risolto il problema della polmonite l'ultima TAC fatta avrebbe dato polmoni bronchi senza segni di polmonite in base a questo è stato proprio portato ha proprio lasciato la terapia intensiva non sappiamo ancora quante visite potrà ricevere non sappiamo ancora quanto dovrà restare perché sicuramente la situazione rimane assolutamente delicata c'è questa leucemia da continuare a curare con questi farmaci chimioterapici che comunque lo debilitano ma il fatto che la sembrerebbe la rientrata la polmonite diciamo fa ben sperare e la proniosi al momento è dei prossimi sicuramente tutta la prossima settimana ancora ricoverato sono in questo caso tutto al condizionale perché ci dirà tutto questo bollettino che dovrebbe uscire proprio a momenti ma ancora non c'è se dovesse uscire vi chiedo la linea grazie a Carmelo Schininà e da Carmelo Schininà a Paolo Sottorona che ci racconta come comincia questa settimana da un punto del tempo mi pare fetido o no? ma sai siamo siamo su una linea di confine perché come vedete a ovest dell'Italia quasi tutto sereno quindi lì c'è alta pressione a est molte nuvole e piogge e noi siamo sulla linea di confine quindi un po' e un po' al momento ci sono piogge sia al nord che su alcune zone del centro-sud vediamo per la giornata di oggi la previsione come si sviluppa questa situazione e al nord di piogge ne restano poche quindi si dovrebbero attenuare quelle che sono presenti in questo momento rimangono fenomeni di una certa consistenza sul versante adriatico sulle zone interne vedete sull'appennino centro-meridionale anche fenomeni localmente intensi e poi al sud peninsulare in parte la Sicilia le piogge comunque ci sono o ci arrivano nel corso della giornata vediamo domani come si diciamo si mantiene in realtà un tempo instabile fra centro e sud al nord qualche precipitazione c'è specie sulla Liguria di Ponente quindi non è un tempo del tutto stabile però sicuramente ci sono più schiarite che arrivano più o meno all'altezza sia della Toscana che dell'Umbria e poi vedete le macchie rosse addirittura in qualche casa quindi potrebbero essere temporali pomeridiani alla fine perché insomma la situazione è instabile ma non da dare piogge abbondanti in tutta la giornata soprattutto nel pomeriggio mercoledì rimaniamo in una situazione al centro-sud di piogge debole ma vedete di nuovo il peggioramento al nord Lombardia Trentino Alto Adige Veneto e qui siamo con situazione di maltempo forte piuttosto concentrato in quella zona però vedete che quindi siamo in questa situazione di confine in cui si risente abbastanza anche di questo maltempo che si trova ad est tranquilla invece la situazione che ci avevano mandato Viviane e Matteo dal lago Bled siamo in Slovenia la foto di questo inverno dice sembra già primavera poi vedete che la primavera insomma si preannuncia si annuncia fa un passo avanti un passo indietro comunque lo scenario col riflesso di questo campanile nel lago e ancora i segni di un po' di neve sulle montagne sicuramente c'è grazie allora di lavoro parliamo tra poco vi do anche il dato sull'inflazione c'è qualche piccolo segnale positivo tra poco i dati dell'occupazione sono i migliori da tantissimo tempo a questa parte però se poi guardiamo ai giovani alle donne abbiamo la dimensione di quello che è ancora il percorso da fare è sul tema lavoro che si concentra l'attesa il prossimo consiglio dei ministri tratterà la riforma del reddito di cittadinanza smantellata in tre forme di sussidio PAL GIL e GAL niente mia RDC quelle sigle non ci sono più la GIL garanzia per l'inclusione riservata ai poveri inoccupabili ed è in continuità con il vecchio reddito esempio una famiglia con disabile grave arriverà a 1430 euro al mese un single 500 più 280 di affitto la GAL garanzia per l'attivazione lavorativa è destinata agli occupabili dura un anno ed è di 350 euro mensili a persona 525 per una coppia GIL e GAL dal 2024 dovrebbero avere un costo di 7,3 miliardi all'anno il terzo sussidio è la PAL prestazione di accompagnamento al lavoro come la GAL decorrerà dopo la sottoscrizione del patto di attivazione ai portali digitali che monitoreranno la partecipazione obbligatoria ai percorsi personalizzati l'inserimento lavorativo e l'aderenza alle offerte di lavoro sono solo anticipazioni per ora anche quelle sulla revisione dei contratti a termine altro piatto forte del decreto verranno prolungati da 36 mesi con meno vincoli sulle causali e sulle sostituzioni resta da superare come lo ha definito la Presidente della Consulta Sciarra il corno del dilemma ovvero il primato della contrattazione nazionale io non mi avventuro sul tema del se sia meglio applicare i contratti collettivi e quindi intervenire con miglioramenti salariali o se una misura sul salario minimo può essere l'altro corno del dilemma o se addirittura le due misure possono conviene non mi avventuro su questo chi si avventura pronti allo scontro l'opposizione che non vede misure abbastanza forti per combattere l'inflazione e il rallentamento delle previsioni di crescita il Paese ha un problema enorme con l'inflazione che avanza questo governo cosa dice bisogna limitare la crescita dei salari dei nostri precettivi io credo che siano affermazioni gravissime a messa nero su bianco in questo DEF boccia le scelte di governo Landini segretario della CGL per il quale le misure inserite nel DEF sono insufficienti di fronte alla forte perdita del potere d'acquisto delle famiglie 3 miliardi per il taglio del cuneo fiscale non bastano dice Landini l'emergenza salariale va risolta con altri argomenti e rilancia a fronte di imprese che non moderano i rincari è indispensabile un contributo di solidarietà sui profitti ma i tavoli con i sindacati si sono arenati fa sapere Luigi Sbarra segretario nazionale CISL il tema delle pensioni dovrà attendere la ministra del lavoro Calderone ha già rinviato il dossier a dopo l'estate Allora credo che si avrebbe visto un tavolo peraltro sul PNRR di confronto nei prossimi giorni con i sindacati ma questo è un altro paio di mai allora c'è il dato sull'inflazione che vi avevo anticipato l'Istat a marzo ha rivisto l'estima inflazione che sta piano piano calando meno 0,4 marzo rispetto a febbraio e il dato anno sarebbe al 7,6% il carrello della spesa continua a essere su livelli più elevati siamo al 12,6% ma l'Istat dice stiamo registrando diciamo un rallentamento di questa inflazione crescente e insomma però sono sempre numeri che sulle famiglie si sentono sui portafogli e sulle tasche delle famiglie si sentono e come Brunella Bolloli per quanto riguarda il reddito di cittadinanza e anche la parte che riguarda il mercato del lavoro insomma si comincia a delineare quello che vuol fare il governo o no peraltro con tutti questi acronimi c'è da diventare pazzi PAL GIL GAL da questo punto di vista sì bisognerà convivere con le nuove sigle GIL PAL GAL se parlava di MIA non c'è più e RDC come sappiamo è in via di scadenza perché come aveva annunciato il governo appunto il reddito di cittadinanza così come era stato concepito dal Movimento 5 Stelle finirà però non è la fine diciamo del nessuno rimarrà per strada cioè quello che poi un po' l'opposizione diceva cioè lasceranno faranno andare sull'astre con milioni di famiglie ecco da quello che si evince e dalle prime bozze che stanno circolando non è assolutamente così c'è uno spacchettamento di quello che era appunto il reddito di cittadinanza però i percettori di reddito non smetteranno di avere un contributo che sarà ridotto sarà del 350 euro così come ci sarà appunto questa garanzia questo GAL per l'inclusione per le famiglie che hanno un disabile che hanno un minore che hanno problemi con un ise ovviamente molto basso e poi ci sarà anche però un incentivo ad esempio alle imprese che assumono questo è importante per dare lavoro cioè chi assume il percettore di reddito avrà per due anni sgravi del 100% questo è un modo anche per agevolare l'ingresso al lavoro poi ovviamente ecco ci sarà anche un controllo per evitare i soliti furbetti che questo è stato un po' la pecca del reddito di cittadinanza perché alla fine poi uno dei motivi per i quali è fallito è stato anche il fatto che moltissimi ne beneficiavano senza avere i requisiti quindi su questo ci sarà sicuramente un controllo più ferio rispetto al passato cioè ad esempio chi rifiuta anche soltanto la prima proposta di lavoro poi non avrà più diritto a questo assegno e poi ecco ovviamente avere dare tutte le informazioni necessarie e non elargire insomma il bonus anche a chi invece non è non è non ha diritto da questo punto di vista poi c'è ovviamente anche quello che è un po' il cavallo di battaglia del governo cioè aiutare le famiglie i figli di natalità quindi ci sarà un aumento del cosiddetto assegno per i figli e questo è un po' stato sempre annunciato fin dall'inizio dell'insediamento però ovviamente l'opposizione dirà ma no queste misure non vanno bene perché vengono lasciate 300.000 famiglie senza reddito in realtà appunto c'è questo spacchettamento in tre diciamo in tre misure e si cercherà comunque di agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro per gli occupabili cioè chi può avere un lavoro deve mettersi in condizione di lavorare chi proprio non ha la possibilità avrà questo GIL questo nuovo tipo di sussidio allora faccio la stessa domanda a Gianni Todini che credo peraltro abbia un impegno quindi lo dobbiamo liberare Gianni che pensi di queste misure annunciate ovviamente tutto ancora da verificare nero su bianco vediamo che farà su questo cosiddetto decreto nuovo decreto il governo allora il tema del reddito di cittadinanza sapevamo anche questo che sarebbe arrivato poi alla alla sua conclusione io penso che insomma il governo sia il primo a essere consapevole che gli strumenti che si stanno mettendo in campo non sono sufficienti penso che insomma sia evidente a tutti che questo è un paese come dicevo prima che rischia di marciare a velocità diverse e non se lo può permettere non se lo può permettere perché al di là del controllo o meno dei furbetti del reddito di cittadinanza qui c'è un tema di inclusione sociale che è molto forte in alcune zone del paese diciamo a livelli forse mai visti aggravati peraltro dai dati dell'inflazione che fortunatamente vediamo stanno migliorando ma insomma con una gradualità che poi sul carrello della spesa non si avverte diciamo alcune fasce di popolazione non l'avverto ma poi c'è il tema dei salari il tema degli stipendi sentivo oggi ad esempio non ci sono autisti per portare gli autobus nelle grandi città un esempio banale prima non c'erano i camerieri adesso non ci sono gli autisti un salario di ingresso a 1300 euro come può consentire insomma a chi vuol costruire famiglia o chi ha già una famiglia di poter gestire insomma anche una vita personale c'è una situazione che sicuramente va ritarata i soldi non ci sono non ci sono le risorse però ripeto l'economia sta funzionando i dati che vediamo sono dati importanti anche da un punto di vista di PIL gli ultimi anni siamo andati bene adesso abbiamo delle previsioni che sono state dichiaratamente annunciate come precauzionali quindi io credo che insomma da qualche parte bisogna cominciare ecco non credo che ci possa essere altra stata che è quella di tornare operativamente sul campo per difendere le classi meno meno fortunate di questo paese con questo vi saluto e vi chiedo scusa grazie grazie a questo proposito vado da Carmine Fottia vi faccio vedere questo suo nuovo libro che oggi peraltro presenterai a Roma che lettera a un partito mai nato la crisi del PD e i rischi per la democrazia italiana perché? perché mi permette di chiederti su questi temi Ellie Schlein la nuova segretaria che farà che dirà? ma sui temi del lavoro mi sembra che si sia già espressa in maniera molto chiara con la battaglia sul salario minimo poi se debba essere per legge o se debba recepire i migliori contratti questa è discussione diciamo una forma di tutela perché non ci siano quelle cose che non dovrebbero esserci cioè il lavoro povero sono due termini che non dovrebbero stare insieme il lavoro sottopagato è un lavoro che non fa bene neanche all'economia perché favorisce ovviamente le imprese che meno meno competitive poi c'è una questione enorme che come tutte le misure dei 5 stelle erano fatte con i piedi il reddito cittadinanza era fatto con i piedi non c'è una misura prodotta dai 5 stelle al governo che sia stata fatta bene ma affrontava un problema reale in tutti i paesi europei esistono forme di sostegno al reddito per chi non ce la fa a lavorare ma al tempo stesso deve esserci un mercato del lavoro nel quale l'offerta di lavoro viene come dire coltivata e la lotta alle diseguaglianze non può essere solo una lotta economica se tu non crei istruzione formazione e si accetta la diseguaglianza un ragazzino che nasce in una periferia meridionale che a 11 anni 12 anni già evade l'obbligo scolastico non ha le stesse possibilità di un ragazzo che nasce in una grande città del nord e che frequenta tutte le scuole quindi diciamo lottare a favore come diceva il direttore prima lottare a favore degli ultimi di quelli che stanno peggio significa individuare chi sono quelli che stanno oggi veramente peggio no chiedo l'analisi da questo punto di vista il governo io ho visto per esempio anche l'annuncio già alcune cose erano state dette per esempio rispetto all'aiuto alle famiglie alle famiglie numerose perché c'è per esempio un problema gigantesco che è quello della denatalità adesso faccio un esempio rispetto a questo tipo di bisogni di stanze crescenti come si sta comportando il governo se pensiamo che l'Istat ha certificato che per la prima volta dall'unità d'Italia le nascite nello scorso anno sono state sotto le 400.000 unità si sono attestate intorno alle 393.000 capiamo davvero diciamo anche il tweet di Elon Musk come sia davvero una tragedia che tutto il mondo osserva il fatto che l'Italia rischia di scomparire io credo che il governo ha fatto l'assegno unico per i figli a carico l'assegno unico universale c'è sempre il tema delle risorse servono risorse più robuste per gli asili nido per tutte quelle politiche che servono da una parte a far sì che la genitorialità sia appunto una genitorialità condivisa fra uomo e donne dall'altra parte anche creare lo stimolo giusto per adeguato per riattivare anche in Italia il meccanismo delle nascite che si è bloccato poi sulla sinistra in questa fase ecco questo sarebbe anche un tema di sinistra cioè la sinistra dovrebbe anch'essa occuparsi e cavalcare il tema di come riuscire a davvero a far tornare gli italiani la voglia di procreare mi pare però che questa sinistra più che sul lavoro su altri temi molto concreti sia molto incentrata sulla grande questione dei diritti civili anche i diritti civili cosiddetti di nuova generazione dice no che non sono contrapposti la storia italiana è fatta di diritti civili e vanno insieme ai diritti sociali però per essere chiara insomma persino Romano Prodi ha notato insieme a tanti altri osservatori del Partito Democratico che c'è un tema c'è il rischio di un eccessivo focus diciamo sui diritti civili e meno sulle tematiche legate al lavoro questo credo che sarà un tema di dibattimento ma questo non capisco che cosa tolga un lavoratore il diritto di un altro lavoratore io ascolto gli altri ma vedo che non sempre questo avviene reciprocamente comunque mi pare spero di aver spiegato quello che volevo dire se posso fare uno spot alle 18.30 a Viale Somalia a Roma il tuo libro mi dici solo se dovessi dare un giudizio dopo il fulminio istantaneo una sorta di telegramma da quando è diventata segretaria ad oggi come giudichi il lavoro di Elislein bene ma adesso deve fare ancora quasi tutto cioè le premesse ma è così però le premesse ci sono è una leader fresca giovane che ha portato una diventata innovazione ma come si diceva prima ci sono temi come il termovolizzatore sul quale il termovolizzatore di Roma che è un altro dei grandi temi ne parleremo oggi credo anche di questo grazie allora vado da Mirta pronta per l'area che tira ciao Mirta Buongiorno Andrea buongiorno beh settimana devo dire comincia con parecchi temi all'attenzione dall'immigrazione di cui si parla moltissimo protezione speciale CPR sindaci proviamo a spiegarvi un po' anche questi termini un po' complicati quello che è certo che destra esista su questo tema sono veramente come gatto e topo postazioni completamente differenti ma poi c'è questa fuga incredibile questa spy story questo imprenditore russo molto pericoloso US è stato fatto scappare è scappato davvero com'è successa una cosa così incredibile nel nostro paese e questo cosa comporterà nei rapporti tra governo magistratura insomma molte questioni poi naturalmente c'è tutto il tema politico perché Calenda e Renzi certo ormai dovrebbero stare tranquilli ma non stanno tranquilli continuano a uscire voci cattiverie piccole punture di spillo insomma con noi molti belli ospiti arriva Claudio Amendola reduce peraltro da un grande successo per parlare di grandi temi di attualità arriva Federico Rampini da New York e poi Mulet Cerno Minzolini Caprarica Gisleri insomma rimanete con noi chi più ne ha più ne metta grazie Mirta è arrivata la notizia poco fa senza mai dimenticarci la guerra in Ucraina truppe russe una squadra d'assalto meglio russa ha ucciso sette mercenari britannici così fa sapere Mosca in una località non meglio precisata che era una roccaforte Ucraina chiudiamo qui allora grazie Carmile Fotiglia grazie a Annalisa Chirico grazie a Brunella Bolloli noi ci vediamo domani stesso luogo stessa ora adesso c'è la raggettina grazie a tutti